benvenuti o bentornati quando il canale oggi dji ha presentato ancora nuovi prodotti esattamente sono tre ma nessuno dei tre riguarda un drone due stabilizzatori gimbal per fotocamere rs3 rs3 pro e poi il primo sistema di trasmissione video wireless indipendente chiamato da dji transmission grazie al quale si riesce a seguire ricezione montaggio e controllo e registrazione da una sola postazione vi racconto qualcosa in questo mio video che vi prometto essere breve ma prima come sempre vi chiedo di iscriverti al canale se ancora non siete iscritti è gratis e dunque perché no vi aspetto e vediamo cosa c'è di nuovo con dji diciamo che la serie rs non può essere definita come una serie di semplici gimbal e dopo l'uscita circa un anno fa delle rs2 adesso ecco la serie 3 che migliora di nuovo e le differenze ci sono dei miglioramenti come il bloccaggio degli assi automatizzato facendo sì che si possa iniziare a riprendere in modo molto più veloce e dicono in poi secondi per l'esattezza da quando si accende poi la modalità standby e il pulsante di scatto bluetooth e poi un algoritmo di stabilizzazione con prestazioni decisamente migliorate del 20 per cento rispetto al predecessore ovvero del rs2 la modalità super smooth che per alcune camere va a migliorare ulteriormente appunto la stabilizzazione poi un display oled più grande e con una diagonale di 1,8 pollici usabile tassativamente ovviamente con il touch una nuova impugnatura con batteria integrata che dura fino a 12 ore poi hanno presentato un nuovo prodotto ovvero la versione rs3 pro che offre ancora opzioni migliori come i braccetti di supporto che sono ricavati da un unico pezzo di fibra di carbonio e per gli batteri manuali esiste un sistema integrato di rilevamento della distanza basato su tecnologia lidar ci sono due porte rsa e nato è una per batteria così da poter aggiungere accessori e supporti come le impugnatori a maniglia la doppia twist grip e quello di controllo poi come per i droni grazie all sdk sarà possibile per aziende non dgi di sviluppare nuove tecnologie e anche soluzioni proprio per l' rs3 pro e poi ecco il dgi trasmission con tecnologia così anche 3 pro grazie alla quale si avrà una trasmissione con una latenza ultra bassa e una distanza massima di 6 chilometri il segnale è trasmesso in 1080 a 60 fps ed ha un audio stereo a 16 bit il sistema ha 23 canali diversi per far sì che si abbiano pochissime interferenze e la selezione del canale stesso ovvero del canale magari dove c'è più ricezioni avvenga in modo automatico in base a tutto quello che ci circonda ovvero quello che di fatto ha meno interferenze nel sistema è compreso un monitor ad altissima luminosità pensate 1500 nit da 7 pollici è sempre wireless e si possono collegare anche due monitor contemporaneamente il trasmission e il monitor remoto possono essere accoppiati ai nuovi rs3 pro i prodotti rs3 sono acquistabili dal sito e costano abbastanza dgi rs3 base costa 5 59 mentre la versione combo 7 29 se poi andiamo a vedere dgi rs3 pro sono in preordine non sono ancora disponibile e il base costa 8 79 mentre la combo 1109 anche il dgi transmission non è disponibile in preordine da oggi e costerà 2319 non poco insomma tecnologia avanzata che richiama quella usata con i droni ma non per tutti ovviamente io comunque ho voluto raccontarvela visto che sono stati presentati oggi e come ogni volta si presentano prodotti nuovi nel canale ve li racconto con entusiasmo e volentieri anche se non sono da tutti nemmeno per me ma mi sembrava giusto raccontarli per quelli potranno essere interessati vi saluto un abbraccio dai big ci si vede alla prossima mi raccomando instagram facebook telegram e tik tok vi aspetto anche i miei profili social ci si vede e state allerta perché nei prossimi giorni vi regalerò un drone ma lo dio davvero ciao iscriviti al nostro canale